Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Finalmente domani sera rivedremo il nostro Milan in campo. Contro chi? Contro il Napoli. La partita sarà visibile su Dazon alle 20.45 e a San Siro sono attesi ben 72.000 spettatori. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Mr. Fonseca ed è stato molto misterioso per quanto riguarda la probabile formazione di domani. Ha affermato che non dirà se Rafa domani partirà titolare oppure no ma ha però detto che Calabria potrebbe giocare e probabilmente prenderà il posto di Teo Hernandez perché infatti io vi ricordo che domani dovremo fare a meno proprio del terzino sinistro e di Reyners. Una cosa sicura però è la convocazione nuovamente di Camarda in sostituzione nel caso a Morata mentre invece il Milan dovrà fare ancora meno sia di Abraham che di Jovic. Brevi ma intense queste sono tutte quante le news di oggi io logicamente vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social magari chi lo sa Fonseca si deciderà a spoilerare la formazione per domani. Grazie. Grazie. Grazie.